Elisa era iniziata a sentire molto fatta di sentire con la mia sorella sul banco e di aver niente da fare. Va bene, disse il gatto e questa volta sparì lentamente a poco a poco per finire col suo soggetto. Alice nel paese della meraviglia di Lewis Carroll Al prossimo episodio